Sono giorni importanti per me. Si sono rotti gli sportelli anteriori della mia auto. Devo salire e scendere da dietro ogni volta. Entrambi gli sportelli? Sì. È vero o vuole solo fare il simpatico? È triste, ma è la verità. Non puoi entrare da davanti. Non credo di voler più lavorare con uno così. Ti capisco. È deprimente. La domanda è perché ci vado, perché ci vado, se so già come finirà. La verità è che non sono capace di dire di no e poi faccio figuracce, ma va bene così. Ora sono qui, nel mio mondo, che è la radio. E la cosa più importante accadrà domani. Rivedrò i miei figli dopo molto tempo. Tornano da Barcellona. Ed è questo che conta davvero.